Cari amici, buongiorno, vi presento oggi il nuovo numero di Pantheon, Pantheon di marzo, una copertina dedicata a una giovane veronese di 20 anni, Lidia Caricasole, che ha inseguito un suo sogno ed è riuscita a iniziarlo, raccogliendo anche online con un'operazione di crowdfunding i fondi necessari per iscriversi alla prestigiosissima Juilliard School di New York, una delle scuole più famose al mondo di arte, danza, musica e spettacolo. È l'unica italiana, l'abbiamo incontrata e intervistata per voi. Sfogliando poi le pagine interne incontreremo la storia, anzi l'intervista a Carlo Rovelli, un altro personaggio importante, un fisico di fama internazionale, che non molti sanno che sia nato proprio a Verona, e veronese Doc. Poi abbiamo incontrato anche Anna Mazzamauro, molti di voi magari questo nome non lo conoscono, ma se diciamo signorina Silvani sicuramente qualcosa vi viene in mente, la mitica signorina Silvani che fece innamorare così Fantozzi, alias Paolo Villaggio, nella serie di film Cult per il cinema italiano. Poi abbiamo fatto un viaggio particolare con il nostro Marco Menini, assieme a Maurizio Mazzo, che da 30 anni apre le piste di fondo in Lessigna con tanta passione e tanta umiltà. Altre storie poi arricchiranno il numero che sarà in distribuzione dai prossimi giorni e che contiene una vera e propria novità. Abbiamo lanciato infatti Pantheon Daily, sarà un quotidiano serale che potrete ricevere o in posta o alternativamente su WhatsApp, direttamente sul vostro smartphone o tablet, che riepilogherà appunto le notizie principali del giorno e darà alcune anticipazioni del giorno successivo. Ovviamente sarà con un taglio multimediale, quindi con la possibilità di sfogliare e di vedere anche dei videoclip dei servizi che realizziamo ogni giorno per voi. Con questo è tutto, non mi resta altro che invitarvi alla lettura e a sfogliare il nuovo numero del giornale che mi auguro vi possa piacere. Alla prossima!